Premiati in Castello a Udine 27 maestri del commercio, un'iniziativa di Confcommercio 50 e più per assegnare un riconoscimento a valori di passione, professionalità e territorialità di imprenditori che in 40 anni di attività hanno costruito il tessuto economico della provincia di Udine. Beh, questa non è solo la storia ma è anche il presente. È un presente che noi oggi abbiamo voluto onorare con persone che da molti decenni stanno all'interno delle loro aziende, del commercio, del pubblico esercizio, bar, ristoranti. Beh, momento importante per Udine, momento importante per Friuli, momento nel quale Udine rende merito agli attori, insomma, dello sviluppo economico di questi 30, 40, 50 anni di attività del nostro territorio, un'opportunità chiaramente per rendere merito a loro ma anche alle loro famiglie, ai loro collaboratori e ricordiamoci sempre che una sera andalzata è un presidio di sicurezza, è un presidio culturale, sociale e non solo economico. Il premio di 50 e più ha offerto anche l'occasione per una riflessione sul futuro del commercio. Trasformazioni e cambi di abitudini stanno minando la solidità rappresentata proprio dalle esperienze premiate in Castello, tanto da far pensare al rischio che tra qualche anno sarà sempre più difficile organizzare manifestazioni come quella di oggi. È vero che il mondo sta cambiando, però l'economia dei servizi è quella che negli ultimi anni sta dando maggiori risultati di pil di occupazione. Ed è fondamentale che queste persone, queste attività, sentano la vicinanza delle istituzioni. Certo, chiaramente le istituzioni economiche sono vicinissime alla micro e alla piccola impresa. Bisognerebbe che soprattutto la politica a qualsiasi livello, dai livelli locali a quelli più ampi, capisse che la vita, la socialità di una piazza, di un borgo, di un paese sta nel far sì che queste attività di commercio, di artigianato, di ristorazione, pubblico esercizio rimangano vive. Quando una via ha le saracinesche chiuse, si perde anche un pezzo di vita della stessa città.